Pomeriggi a teatro è una nuova iniziativa del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Si tratta di tre spettacoli dedicati ai più piccoli nei pomeriggi delle festività natalizie. Iniziamo domenica 11 dicembre con Alice, uno spettacolo di Cantestrasse teatro ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie e attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Domenica 18 è invece la volta della danza con uno spettacolo prodotto da Sosta Palmizzi di Giorgio Rossi che si intitola Con il naso all'insù. Come vedono i bambini noi adulti? Con il naso all'insù, uno spettacolo che gioca su questo aspetto. La rassegna chiude il 6 gennaio per l'Epifania con l'ultima produzione delle officine della cultura, il piccolo principe e l'aviatore per la regia di Amanda Sandrelli con Samuele Boncompagni e sette musicisti in scena. Uno spettacolo che mescola diversi linguaggi appunto la narrazione, la musica dal vivo, il disegno per la magia della storia del piccolo principe. Pomeriggi a teatro è pensata per far venire bambini e adulti a teatro assieme. Infatti gli adulti, se accompagnati dai bambini, pagheranno anche loro un biglietto ridotto. Lo segue la stagione di prosa del Teatro Dovizi con il secondo appuntamento di quest'anno. Lo spettacolo Odissea che andrà in scena il 14 di dicembre a sempre alle ore 21 e 30. Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia nata per la regia di Livio Valenti con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna. Una rivisitazione allegra e originale del classico di Omero. Prima dello spettacolo, come da tradizione, ci saranno i gusti a teatro, quindi un aperitivo offerto al pubblico dalle ore 20 e 30 dal ristorante La Tavernetta. Dai, portami a teatro! No! Come no? Perché no? Perché non mi piace! Ma ci sono anche le storie e i pupazzi! Mai piaciuti neanche i pupazzi! E nemmeno le storie mi annoiano! Non ti ci porto! Sei dispettoso! E tu sei brutto! Gli uomini delle stelle. Ritorno alla rassegna di teatro per ragazzi e per le famiglie al Teatro Dovizzi di Bibbiena. Inaugurazione con il primo spettacolo domenica 18 dicembre alle ore 16 e 30. Da schiantarsi dalle risate! Ma che spettacolo è? È di segno in segno. È una cosa che parla di tutte le domande che si pongono i bambini. Che cos'è il mondo? Che cos'è l'uomo? Che cos'è la terra? Cos'è l'aria? A me piace sia la terra che l'aria! Forse mi piace anche a me questo spettacolo! Bello, 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 bello! Ci vediamo a teatro! Dai, portami a teatro! E va bene! Andiamo a teatro, dai! Grazie! Grazie!